Per l'anno 2023-2024 saranno tanti i bambini a rimanere fuori dall'asilo nido. Il Comune di Pesaro, come riferito tre settimane fa dall'assessore Camilla Murgia, ha ricevuto per settembre 469 domande ai nidi comunali, ovvero 93 in più dell'anno prima. Il risultato sono 238 bambini iscritti e 224 in lista d'attesa, ovvero quasi la metà che rischia di rimanere fuori dal servizio educativo. Per tentare di avvicinarsi a rispondere a questa esigenza crescente, il Partito Democratico ha protocollato una mozione per potenziare il servizio educativo 0-3 anni. Mozione che chiede alla Giunta una politica mirata ad aumentare significativamente i posti disponibili a contrasto delle liste d'attesa e soprattutto sollecita la Regione verso una fattiva compartecipazione economica. Il PD Pesaro sottolinea come la Regione stia contribuendo con un milione e mezzo ai servizi educativi delle intere marche a fronte di un comune che investe quasi 10 milioni. Una mozione che dunque richiede il sostegno alla Regione per seguire quelle indicazioni che il Consiglio dell'Unione Europea chiede per dare assistenza all'infanzia almeno al 33% dei bambini sotto i tre anni e chiama i Paesi membri ad agire in modo che entro il 2030 almeno il 45% dei bambini di età inferiore ai tre anni partecipano ai servizi educativi e di cura per la prima infanzia. Pesaro ad oggi è già arrivata al 30%.